Niente, numero tre. Guarda questo col cappello! Sembra veramente un cowboy! Un cowboy! Sì, è così! È un sette! No, almeno un otto. Ui, ui, ma che date pure i voti! Che state facendo, mister Dolomini? Scusate, è lui o non è lui? No, no. Però sono tutti così belli. E poi è lei il poliziotto, è lei che lo deve scoprire, no? Va bene. Allora adesso ci lavoriamo noi, credo che siamo della polizia, e lo troveremo, non vi preoccupate. Comunque, complimenti, questo posto è bellissimo, sembra di essere a un passo dal cielo. E che Dio ci aiuti! Speriamo, soprattutto a lui che ha bisogno.